Siamo all'aeroporto del Prat dell'Obregato, oggi è l'8 luglio del 2016 e con la mia sorella, auguri Monica! Questo è un posto che si viene passeggiando in bicicletta, costeggiando le rive del fiume dell'Obregato e si arriva fino alla spiaggia del Prat e camminando c'è questo bellissimo posto dove si può fermare con la famiglia, guardare gli aerei attirare, porto all'aeroporto e gli aerei ti arrivano proprio a cosso, quasi. Attenzione! Attenzione! Onde sta? Eccolo là! Bello, eh? Gionata, Ilaria, Giulia, auguri, auguri, oh fatti gli auguri alla Cremonica, ciao auguri, ciao, 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 auguri, auguri, auguri.